Ciao ragazzi, allora oggi è arrivato questo scatolone, vediamo cosa c'è dentro, vediamo cosa c'è dentro, sarà arrivato Babbo Natale prima del tempo? Vediamo un po', vediamo un po' cosa c'è qua dentro, già si intravide qualcosa, già si intravide qualcosa, già si intravide qualcosa, scusate, ho bastato con una sola manina, vediamo un po' cosa c'è qua, forse ci sarà qua sotto, forse ci sarà qua sotto, apriamolo per bene così, guardate cosa c'è qua, un piccolo mostro, un piccolo mostro, un altro mostro sta là, un piccolo mostro di calcomanie, e qua c'è la gomma anteriore, dai, montiamo e vediamo cosa viene fuori. Allora ragazzi, tolta la gabbia, ecco qua, preassemblata, si finisce di assemblare, si mette in moto, e si andrà, si andrà in pista con la pit bike, beh, un bel giocattolo. Allora ragazzi, non le ho fidi, ma non i più monti, non le ho fiuo, non le ho fiuo, non le ho fiuo, non le ho fiuo, non le ho fiuo. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti